Sì, domenica prossima 24 novembre alle 17.30 la sala annunziata a Bia Giovanni da San Giovanni andrà in scena La vita che vi devo, uno spettacolo teatrale organizzato dal gruppo teatrale di Prestavoce e prodotto dall'Associazione Paro Paro. Noi siamo particolarmente felici di patrocinare questa iniziativa che ha sia uno scopo culturale ma soprattutto benefico perché l'ingresso, offerta libera, andrà poi devoluto all'Associazione Maura per i diritti del malato, un'associazione che ci riconduce a una persona molto nota nel nostro territorio che ha vissuto una vita di grande sofferenza ma il cui ricordo ancora oggi è estremamente molto vivo. Quindi appuntamento per domenica prossima alle 17.30 alla sala annunziata a San Giovanni Valdana.